Ciao a tutti, siamo tornati in questo nuovo video Stai se arriverà un po' tardi questo video Ma poi mi sono messo un po' a fare cose mie Quindi non ci ho più pensato a farlo E niente L'Italia ha vinto contro la Bosnia-Herzegovina Per 0-3 Perché abbiamo giocato lì da loro Loro non hanno più possibilità di qualificarsi Perché avevano appunto 10 punti Mancano due partite per noi Solamente in caso che Ovviamente nel caso in cui Mi sa, cioè non lo so, mi sa forse no Sì, sono nel caso in cui Avessero vinto E poi la La Finlandia non avesse vinto oggi Oppure avesse appena pareggiato Poi avevano la possibilità di avere un'altra partita Per dimostrare appunto che potevano vincere E appunto qualificarsi E però così non è stato ovviamente perché Perché appunto il girone è finito con Noi a 27 Poi La 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 A 18 Quindi noi anche abbiamo 29 partite Poi la Finlandia che era 26 Perché ha 18 E poi Poi l'Armenia non so Non so quando Non so se ha giocato Deve giocare Se si ha vinto Almenia a 13 Se no A pari con la Bosnia a 10 E poi No 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 Perché ha perso l'Armenia Quindi l'Armenia tipo sta a 10 Bosnia a 10 E poi Non so se forse la Grecia è andata tipo a 11 Perché tipo ha vinto miracolosamente Comunque Comunque vabbè L'Armenia sapeva già di non potersi Di non poter più fare niente E Scusatemi eh Non mi stavo ricordando Comunque Comunque l'Italia che gioca bene La Bosnia che nel primo tempo ha rischiato più volte di fare il gol Ma nel secondo tempo non ha quasi giocato E Anis si è fatto male E' uscito Giaco per fortuna non si è fatto niente E niente Zagnolo è nazionale ma non ha giocato C'era il Sharawi Che è entrato Secondo me il Sharawi lui se lo porterà Se lo porterà Perché alla fine l'altra partita ha fatto bene Questa partita è entrata Comunque voglioso Ha fatto bene Non ha fatto molto Ma comunque Ha portato avanti la nazione Ha fatto qualcosa Si è buttato in mezzo Quindi si è proposto Tra l'altro mi pare che avesse fatto un gol e un assist Oggi non lo so Cioè oggi niente Però mi pare che l'altro l'altro avessi fatto anche un assist Ha fatto sicuramente un gol E aveva fatto sicuramente un gol E quindi alla fine Questa è la cosa più La cosa più importante Perché poi alla fine Mancini ha detto che comunque C'è quelli che convocherà appunto per il mondiale Già li sa Solo che non sa Appunto tipo 7-8 Non sapeva chi Sa bene chi convocare Perché magari no Sapete tipo questi qui Tipo tonali Tipo Castrolidimo è appena arrivato Quindi Non penso se lo porterà Mi dispiace per lui Ma Non penso Però tipo Capito Tipo i difensori Deve scegliere Per esempio Izzo Acerbi Romagnoli Poi ci saranno Appunto Chiellini e Bonucci Si però Tra loro deve scegliere Poi tipo i portieri No Ne dovrà scegliere due Tra Gollini e Meretto Oggi Gollini è entrato Quindi Bisogna vedere E niente Alla fine Donnarumma ha giocato bene Ha giocato praticamente Solo il primo tempo Perché Il secondo tempo Non doveva Cioè Poteva anche non entrare Poteva anche rimanere Negli spogliatoi Che praticamente Se rimaneva negli spogliatoi Faccia più bella figura Alla fine Perché c'è Non aveva niente da fare E Quindi questo Insomma A parte che Alla fine Il primo tempo Io non stavo tanto Guardando con troppa attenzione E poi dopo Invece Il secondo tempo Mi sono messo a guardare Alla fine È stata pure una Una buona partita Una partita E Tranquilla Il primo tempo Poi con questi tre gol Che abbiamo fatto noi oggi Siamo stati Più Più che tranquilli Comunque Fatemi sapere Cosa ne pensate Di questa partita Una partita Che In realtà Non ci ha detto niente Ci ha solamente detto due cose Uno Che l'Italia Ne ha vinte nove In questo In questo anno E se Vince la prossima Sarebbero tipo dieci In dieci In un anno Quindi Assurdo E comunque Ho fatto genere Con dieci vittorie Che prima Era nove Di posto Però che posto Praticamente Le avevano fatte Tipo Non so Tipo Le avevano fatte Tipo cinque Mi sa Per vincere L'europeo Mi pare Perché Le avevano fatte Tipo O cinque O sei Per vincere L'europeo E poi Alte tre Qualificazioni Del genere Quindi Comunque Capite bene Che Parliamo di altri livelli Quindi Queste cose qua Io non so se voi l'avete vista Se l'avete vista Commentate Ringrazio per tutto il supporto Che sto avendo in questo Periodo Con le visualizzazioni Magari anche Con i like Ogni tanto Non troppo Con le iscrizioni Iscrivetevi pure Seguitevi sul mio profilo Instagram Santisanti 2001 L'ho attaccato Dove Ci sono tipo 27 follower Tipo Comunque Dove Dove posto Ogni tanto Delle cose Legate sia al calcio Che non E E niente Quindi Così E ci vediamo Penso di con un nuovo video Bella